Sindaco, secondo appuntamento con Crescere Insieme, il padron Polcinelli fa sul serio e di parola e ci sono idee che stanno diventando già progetti reali? Ci sono idee, sogni e azioni concrete che si stanno sviluppando, il padron Polcinelli fa sul serio e quindi anche noi rispondiamo seriamente e quindi io sono presente per testimoniare che vogliamo collaborare con questo progetto che coinvolge e che parte dal calcio per cercare di aprire il territorio e quindi abbiamo una forte necessità di aprire Ascoli con il mondo esterno, la connessione di Ascoli nel mondo e il mondo ad Ascoli e quindi questa è una grande opportunità perché si creano relazioni tra imprenditori locali e imprenditori che vengono da altre città d'Italia per cercare di stimolare progetti di sviluppo. Noi abbiamo bisogno di mettere a reddito il nostro patrimonio e quindi dobbiamo creare collegamenti, relazioni pubbliche e umane per poter sviluppare dal punto di vista turistico attraverso il calcio. Il calcio è il collante più importante di Ascoli quindi possiamo unire all'interno e connettere con il mondo esterno. Io sono certo che questo lavoro produrrà importanti risultati solo che ci vuole tanta determinazione e tanta collaborazione quindi invito tutti, cittadini, imprenditori, a fare squadra insieme perché è il momento storico per poter rialzare Ascoli e creare sviluppo, opportunità e lavoro.